Il ministro Schillaci si scusa per non essere qui con noi questa mattina, però ci ha voluto inviare un bellissimo messaggio che leggerò adesso. Allora, desidero rivolgere il mio saluto a Giorgio Casati, direttore generale dell'ASL Roma 2 e a tutti i partecipanti dell'evento Digital Health by Design. In un'epoca in cui le sfide nel settore sanitario sono sempre più complesse, la digitalizzazione si configura come un elemento essenziale per costruire un sistema sanitario equo e centrato sui bisogni delle persone. In linea con questa prospettiva stiamo attuando con celerità le iniziative previste dal PNRR, con particolare attenzione alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione degli ospedali. Questi sono i tre punti. Telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e digitalizzazione degli ospedali. La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rivestono un ruolo fondamentale anche nel sistema di raccolta e analisi dei dati, strategici per una programmazione sanitaria efficace, per la promozione della ricerca e per la prevenzione delle malattie, quindi dati primari e dati secondari. In questo contesto è essenziale collaborare tra istituzioni per definire nuovi modelli di servizio e stabilire linee guida chiare nell'utilizzo dei dati sanitari e nella progettazione di algoritmi di intelligenza artificiale. L'evento odierno rappresenta un'importante opportunità per aprire un confronto costruttivo su queste tematiche. La governance e la regolamentazione devono essere i nostri alleati nel processo di cambiamento, affiancando e agevolando la transizione digitale in sanità a livello regionale e nazionale. Grazie e buon lavoro a tutti.